Nativi americani e immigrati uniti contro Trump. Migliaia di persone in tutti gli Stati Uniti scendono in piazza per dire no alla costruzione dell'oliodotto Dakota e in difesa dei Sioux. A San Francisco alcuni manifestanti sono stati arrestati per aver bloccato l'accesso pubblico a un edificio federale. Altre manifestazioni sono state organizzate a Washington, Chicago e New York. L'amministrazione Trump ha concesso l'ultimo permesso necessario per completare l'opera e i lavori possono riprendere da subito. La maxi-infrastruttura, dal valore di 3 miliardi 800 milioni di dollari, trasporterà petrolio dal Nord Dakota all'Illinois. L'ok ad andare avanti è arrivato quando sembrava essersi aperto uno spiraio di trattativa fra I Sioux e l'amministrazione. Il capo della tribù della riserva di Standing Rock del Nord Dakota era in volo per Washington quando è arrivato il Via Libera. Non è escluso che i nativi americani, con l'appoggio degli ambientalisti, possano presentare appello contro quello che è stato definito uno schiaffo del presidente Trump a I Sioux. Grazie a tutti.